Ciao a tutti, io sono JadeSword e benvenuti nel mio canale. Qui il divertimento è assicurato tra le avventure di Ellie. Ciao, io sono Ellie e ho scoperto da poco di essere una principessa e di essere stata adottata. Per non parlare della sua storia d'amore travagliata con Kevin, Ellie dimentica Victor e torna da me. Poi, oltre alle avventure di Ellie, c'è anche una bellissima storia intitolata Alice's Life. Ciao, io sono Alice e questa è la mia casa. Lei è mia sorella Zoe. Ciao. Vi parlo della mia vita e del mio segreto. Oltre a queste due serie, c'è anche Sol Benson, la mia nuova vita, con Amber e Luna. E il segreto di Sharon. Cosa si nasconderà dietro il diamante misterioso? Infine, non perdetevi l'avventura di Winterland in inverno con Pina e Bing. Ciao, io sono Pina e abito a Winterland, un villaggio invernale. D'estate invece ci sposteremo a Summerland, un villaggio estivo, e le loro avventure in estate. Inoltre, c'è da divertirsi con quiz sui me contro te, sui Luna e altri. Ogni lunedì, mercoledì e sabato, qui sul canale, alle ore 12, video per tutti voi. Seguitemi su Instagram e TikTok. Mi chiamo Jade Sword Official e su Facebook JadeC... Un bacione grande grande, vi amo, ciao!